Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind, you search for tech we find. Buonasera a tutti, bentornati in diretta, diretta serale, notturna quasi, caro Roberto Pinna. Fretta fresca perché ho messo felpa e giubbotto ragazzi, non lo so, so che anche in Sardegna c'è il maestrale però felpa e giubbotto. C'è un freddo clamoroso qui all'esterno dello stadio Perucca di Saint-Ven-Saint dove da qualche minuto si è conclusa la prima amichevole Valdostana del Cagliari di Colo dei Ranieri contro la Roma Primavera, un 4-1 agrodolce, possiamo dire così, caro Roberto Pinna in attesa di ulteriori novità, dolce per alcune buone indicazioni da parte dei singoli su tutti Perero e Oristanio direi. Assolutamente, Perero ancora in gol, abbiamo anche nel nostro sito fatto un pezzo dedicato appunto sul Tonga che manda segnale al mercato perché il secondo gol nelle prime due amichevoli, gol all'Olbia, gol contro la Roma, forse aveva avuto anche l'occasione per farne più di uno contro la Roma il giocatore uruguaiano ex-Nazionale che ha aperto poi la sfida facendo lui il primo gol di questo 4-1 diciamo anche tutti gli altri marcatori, Perero al terzo minuto, al 32esimo Ollella, poi Oristanio al 71esimo, a Azzi all'ottantesimo a chiudere le marcature del Cagliari invece all'82esimo è arrivato un gran gol di Vetcal, poi lo rivedete nei vari highlights dei colleghi o comunque nella pagina ufficiale del Cagliari Calcio su YouTube, Vetcal, il giocatore giallorosso che ha fatto davvero un gran gol dalla distanza ma se la nota positiva ovviamente è quella di un Perero che continua a segnare di un Oristanio che si è sbloccato, ha fatto una buona ripresa è andato a segno, un gran gol tra l'altro un diagonale sotto le gambe del portiere della Roma preoccupa e la preoccupazione è maggiore, noi per qualche minuto in tribuna stampa siamo rimasti davvero molto molto preoccupati per l'infortunio di Marco Rogo, vedete le immagini il giocatore provando uno strappo a palla al piede sulla fascia ha sentito saltare qualcosa perché si è subito accasciato a terra, lacrime per lui o comunque sguardo che non lascia presagire niente di buono, si è toccato sopra il ginocchio sinistro, in questo caso lui è stato operato due volte al destro, tra l'altro a volte del gioco della sfortuna proprio contro la Roma prima squadra, si fece male la prima volta al ginocchio, poi in amichevole estiva si fece male la seconda volta all'Everkusen, giusto se non ricordo male ad Augsburg, sì è vero, non all'Everkusen, ad Augsburg scusate e non ci è sembrato qualcosa di poco grave però ovviamente speriamo che gli esami che farà domani il giocatore lasciano questa serata un semplice brutto spavento, Ranieri è andato a rincolarlo quando è uscito, gli ha chiesto qualcosa sul ginocchio e lui ha risposto di sì, togli andosi la fascia di capitano, ovviamente la speranza è che a caldo abbia avuto più paura di quello che non è stato, però oggettivamente le scene, la scena diciamo della sua uscita dal campo è tutto tranne che era assicurante. Sì speriamo davvero di sbagliarci, diciamo nel frattempo vi ho mandato una chiamata per sbaglio, credo, sì, è arrivata una tua chiamata come sia possibile e il freddo, il freddo fa anche questo davvero, speriamo che queste siano solamente immagini di un brutto spavento, come hai detto tu e che domani Marco Rogg possa tranquillizzare se stesso in primis, ma anche noi e i tanti tifosi del Cagliari, nel frattempo vi ho parlato di Peredo, è dietro di noi, che sta... è al telefono con la rabbia, perché subito sta aumentando, sta chiedendo di più probabilmente, visto che... avete visto cosa so fare, adesso a partire di scherzi parliamo un po' di Peredo, posso dire una cosa, coinvolgiamo anche Matteo Zizzola, perché per una volta che abbiamo Matteo Zizzola in diretta con noi, ciao Zizzola, ben trovato ciao, buonasera a tutti, non sono morto, è il mio tono di voce classico della serata esatto, nonostante il colore della pelle e il tono di voce, Matteo Zizzola lotta e vive insieme a noi tra l'altro anche Matteo Zizzola ha ricevuto un'offerta della rabbia che... lo sta valutando, lo sta valutando probabilmente per un paio di multiple e qualche cassetta di pesche noci verrà spedito a giocare alla Saudi League Zizzo, ovviamente ti abbiamo per il mercato, però insomma ti diciamo noi quello che abbiamo visto oggi qui sul terreno di gioco del peruca di Saint Vincent, un Peredo che ha confermato penso sia uscito Ranieri, o hanno vinto la lotteria no, Pavoletti, Pavoletti che qua in Valle d'Aosta insieme a Macumbu, Macumbu per motivi di lingua, invece Pavoletti per motivi di gol leggermente pesanti che ha fatto negli ultimi giorni è sicuramente molto amato, no, la domanda per Zizzo poi su Perero e in generale una domanda è un'osservazione, Gaston Perero no? Il rischio era quello di metterlo fuori dal progetto con le parole come ha fatto Bonato, come comunque abbiamo descritto in questa settimana e poi ritrovarsi un giocatore che magari non avrebbe neanche giocato nelle varie amichevoli, oppure magari avrebbe potuto fare male, invece è iniziato con un gol contro l'Olby e oggi ha fatto circa un'ora di gioco, molto bene Zizzo, al di là del gol ha avuto magari anche altre occasioni per farne un altro e non è stato cinico, però ha svariato tanto, ha giocato da falso 9 e da attaccante esterno, provando diciamo a in qualche modo rilanciarsi, credo che per il mercato in uscita questo sia un buon segnale. Sì, sono d'accordo, va detto anche che con tutto il bene che si possa avere da Perero non è una partita contro l'Olby o contro la Roma del 19 che può fare la differenza per il giocatore almeno, per quello che ci chiedono su eventuali possibili ripescaggi permanenza Perero credo che stia giocando per quello che hai detto tu e anche per l'assenza di altri attaccanti in questo momento perché Show Rumodov non è ancora stato ufficializzato e la padula è fuori, quindi non è che ci sia tantissima scelta. Va bene che comunque venga utilizzato e che non venga tenuto fuori perché sarebbe assolutamente controproducente per un giocatore che è stato dichiarato in uscita apertamente. Se questo possa portare a maggiore mercato non lo so, il problema di Perero è sempre il solito, è un ingaggio importante che è difficile da piazzare. Va detto che credo che se poi questa arriverà a conclusione del mercato con Perero ancora passato il termine sul groppone, il Cagliari è una soluzione stile nazionale per continuare con l'ammortamento fino a scadenza, potrebbe valutarlo. Non nazionale come squadra è una soluzione, quindi presito secco, con parte di l'ingaggio pagato pur di non perderci troppo rispetto all'investimento fatto da oltre 4 milioni nel gennaio 2020. Ha detto ammortamento, io ho pensato alla mortadella perché oltre al freddo c'è anche fame dalle parti del Peruca di San Vincenzo, però ecco, ci arriviamo a Zizola, lo usiamo subito per il mercato perché Palomino, ovviamente lui ha detto Show Rumodov ancora non è ufficializzato ma Show Rumodov è qua, l'abbiamo cuccato, l'abbiamo cuccato come piace dire ad Aresu con l'hashtag ormai cuccare che sarà protagonista, ci auguriamo di questo ritiro di Palomino e Pratti, sono i nostri obiettivi. Cuccare tutti, qualsiasi cosa, passi, non vi capisco, però comunque immagino che sia qualcosa di divertente. No Zizzo, facciamo il punto sul mercato extra ovviamente Show Rumodov, magari partendo da Palomino, situazione pratica, chi ci segue, siete tantissimi, più di duecento, ogni volta ci richiedete questi nomi aspettando la risposta di Zizzo, oggi ce l'abbiamo, godetevelo. Allora, intanto rispondo agli altri che sono entrati in corsa sul ROG, è difficile sapere dopo dieci minuti dalla fine della partita cosa abbia nello specifico. Guarda, ti dico perché poi c'è il tema Zappa che ha fatto la conferenza a fine partita, lui ha detto, ho visto che si toccava sopra il ginocchio e ha messo una borsa in panchina lì, però di più non se ne sa al momento, farà domani delle visite, probabilmente a Torino, dove le ha fatte anche Iancto, per andare a capire se è qualcosa di molto grave da operare o comunque sia in generale, se invece in realtà è stato solo uno spavento. Quindi appena sapremo ragazzi ve lo diremo, vi aggiorneremo. Mentre tornando al mercato, su Palomino la situazione è più o meno sempre la stessa, c'è un'offerta del Cagliari che è una sorta di spalmatura del contratto in essere con l'Atalanta, Palomino è un contratto fino al 2024 con opzione per il 2025 da un milione e mezzo netti, quindi facendo i conti della Serba, così ando solo per un anno di contratto, il Cagliari offre un biennale a circa 800 mila euro netti o un biennale più uno a circa 600 mila euro. Questa è la soluzione che dovrà prendere Palomino. Difficile in questo momento capire cosa succederà nell'immediato, però la sensazione è che il Cagliari se sta tenendo botta e tenendo fermo come obiettivo il solo Palomino come obiettivo di punta significa che ha abbastanza fiducia, se no avrebbe già virato su altre soluzioni. Palomino poi non c'è grandissima fretta perché arriva da un infortunio, ho corso a maggio scorso, inizio a maggio scorso, quindi in ogni caso non è che sarebbe prontissimo per iniziare domani, quando la dovesse arrivare stanotte facendo un'ipotesi per assurdo. Perché riguardo a Prati, ora quello che è successo già a Rogue potrebbe cambiare, quanto abbiamo scritto nel pomeriggio, perché ovviamente un conto è se hai Rogue abile e arruolabile, un altro se hai Rogue invece ha una situazione simile a quella del passato che incrociano le dita, speriamo non sia, ma qualora Rogue avesse dei problemi, il Cagliari che comunque non ha fretta su Prati perché ha una posizione in vantaggio e può andare anche ad agosto senza nessun problema, potrebbe a quel punto magari scegliere di fare un all-in non da 10 milioni, questo l'abbiamo sempre detto, ma non è una valutazione che il Cagliari mai metterà sul piatto per un 2003 come di presenza in Serie B, però magari raggiungere quei 5 milioni che sono un po' la vetta per poter convincere la SPAL definitivamente ed evitare che sia a faccia della concorrenza. Poi l'altra domanda che fanno tutti è quella dell'attaccante, l'attaccante in questo momento il Cagliari non ha tra le priorità un attaccante da aggiungere oltre a Shomuradov, però non si esclude assolutamente che nel futuro, dopo che verranno sistemate le priorità, soprattutto le uscite si vada su una punta che probabilmente si cerca di prendere a costo di occasione proprio tra gli esuberi, non per dire un nome che sarà lui, però l'esempio di Maiorale delle ultime settimane è quella, la tipologia di profilo, un giocatore in uscita non a squaria, magari anche con valutazione importante che poi arrivi però a valutazione inferiore. Nel frattempo è uscito Marco Rog, sulle sue gambe ha preso la navetta in questo momento, ancora non è andato via, ovviamente visto il buio è difficile per voi vederlo anche perché in un punto abbastanza il costo, anche per noi, soprattutto per me, in generale nella vita però con gli occhiali va un pochino meglio, però allora non aveva fasciature, è uscito sulle sue gambe un pochino zoppicante, l'impressione forse che il dolore sia davvero come diceva Gabriele Zappa, cioè sopra il ginocchio sinistro, quindi magari un qualcosa di muscolare perché lui se lo andate a rivedere fa un movimento anomalo, si lascia quasi cadere per aver sentito tirare, però sai un giocatore è vero che a caldo a volte ti puoi essere fatto anche tanto tanto male e non te ne accorgi, però comunque sia il fatto che stia tornando con la squadra adesso nella navetta e non stia andando direttamente magari a fare degli accertamenti ulteriori o non sia con lo staff medico e sia uscito appunto senza fasciature, senza magari la stampella, senza niente diciamo, di tutto ciò un pochino è positivo. Anche l'immagine che abbiamo visto prima dell'affallo aveva fatto mettere paura proprio perché comunque si ha tirato un urlo importante quando si è accasciato, però poi è uscito anche dal campo in realtà abbastanza, relativamente tranquilla, questa immagine qua sembra più un'immagine rabbiosa, più del dolore, cioè quasi il fastidio di essersi nuovamente fermato, una sorta di stizza. Ricordiamo che lui anche l'anno scorso per i problemi muscolari saltò il ritiro estivo, va detto che ancora sembrava indietro di condizione, anche nel primo tempo contro la Roma Primavera non riusciva magari a prendere passo di mezzo al campo con i vari ragazzini giallorossi che comunque sia, sono un'ottima squadra, l'hanno anche dimostrato con alcuni elementi, per esempio D'Alessio un po' su tutti quest'oggi, di fatto sembrava un pochino in difficoltà a livello proprio atletico, al di là del fatto che non ha più quello strappo di un tempo dopo la doppia rottura del crociato dell'anteriore, del ginocchio destro, non ha più quel dinamismo, però sembrava anche atleticamente un po' indietro rispetto ai compagni. Quindi questo sarebbe, anche se magari uno stop non lungo, sarebbe comunque l'ennesimo ritardo di condizione per una stagione che doveva vederlo comunque un minimo protagonista, invece così potrebbe rischiare di vetterlo totalmente ai margini. Speriamo che sia un intoppo, comunque al di là di tutto, perché giustamente come ha detto Zappa anche poi a fine partita dispiacerebbe ovviamente per il Cagliere perché è un giocatore importante ma soprattutto per il ragazzo che non si merita questa sfortuna. Assolutamente no. Ma andiamo a Nanna Zizzo nel frattempo? Sì, non so se voleva dirci qualcosa. Esatto, se voleva raccontarci qualche altro segreto di mercato, Zizzo, non lo so. Sul mercato in uscita un paio alla sarda di cose. Vai, 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 un paio, dodici. No, trenta secondi. Oggi è uscita la notizia di un interesse del Venezia per Altare, non è l'unica squadra che è interessata ad Altare, ma faccio una battuta anche io, o sarei interessata a Bene Rodriguez, non vuol dire che Altare vada al Venezia. Ok, Bene Rodriguez venga da te, insomma. Esatto, però va detto che... Esatto, cioè con un po' anche di... ci è rimasto male. Vai, Zizzo. Va detto che la situazione di Altare va monitorata almeno per l'ultime due settimane di mercato perché se il Caliente non riuscisse a piazzare Goldaniga o Capradossi o entrambi, allora a quel punto potrebbe valutare di cedere un giocatore che ha più un mercato come Altare, detto che il Gennaro è il 50% sulla rivendita, quindi è una situazione anche abbastanza complessa. Tra Vallini lo stesso c'è un interesse del Cittadella, che al momento però nulla di concreto, tutto quello che sto andando a dire non c'è nulla di concreto, sono interessi giusto della prima ora, se vogliamo. E poi c'è Lella, Lella gradirebbe, dovendo salutare Cagliari, andare in caratteria, tornare a casa a Bari in prestito, ma ci sono anche l'Afferal Pissalò e il Venezia. Anche il Venezia, anche su Lella, una cosa che mi è stata detta due minuti fa. E quindi sono situazioni da monitorare, ma non sono cose di domani e nemmeno della settimana prossima. Tra l'altro, Zizzo, ti interrompo un attimo perché Lella sta facendo comunque delle buonissime amiche. Evo Lioge era uno dei più pimpanti, al di là del gol del Cagliari, ha avuto strappo, ha lottato parecchio su tutti i palloni in mezzo al campo dei Rosso-Blu, ha giocato quasi anche a supporto dell'attaccante, inserendosi molto. Secondo me, tra tutti i centrocampisti di alternativa, Lella è uno, e lo dicevi anche tu in tribuna stampa, guardando la partita, di quelli che piace molto a Claudio Ranieri, perché è duttile, ha quello spirito che piace a Ranieri, un po' ruspante, però in senso buono, cioè che è applicato, non mette mai una parola fuori posto, dove gli dici di stare sta. Secondo me il Cagliari valuterà bene anche con Ranieri prima di lasciarlo andare. Poi è chiaro che in base alla tanta concorrenza, qualcosa bisognerà fare per valorizzare il ragazzo, perché tenerlo in panchina magari troppo non ti permetterebbe di farlo crescere. Però secondo me, tatticamente, a Ranieri piace molto. Tra l'altro è quello che è rimasto in campo con il Fortuna di Rogue, cioè tutti gli altri cambi. Va bene, Zizzo, grazie. È stato bello riaverti con noi, appuntamento dei prossimi giorni. Ci rivedremo presto, dai Zizzo, ci rivedremo presto. Il piumone. Il piumone, se stanotte è il sacca, come si suol dire. Grazie a Matteo Zizzo, che ritroveremo nei prossimi giorni. Roby, noi restiamo un altro paio di minuti prima di chiudere. Andiamo un po' anche parlando di Gabriele Zappa. Gabriele Zappa, ormai... Ma c'è anche un secondino. Sì, perché stanno andando via i magazzinieri del Cagliari, se no rischiamo che... Eccolo qua, ora rivedete, che finiamo sotto e non è buono per noi. Eccolo qua, Zapigno, che vedete nella galleria delle parole a fine partita. Ormai idolo totale dei vari tifosi. Per esempio, l'abbraccio con lo storico magazziniere del Cagliari, Piero Massa, uno che forse ha fatto più ritiri di qualsiasi altra persona all'interno dei Rosso Blu, ha detto questo Zapigno, idolo appunto dei tifosi, che ha detto anche delle parole importanti. Si sente senatore di questo Cagliari, ha detto mi trovo benissimo sia con la città che con i compagni che con la squadra. Ha detto che ha festeggiato tanto, e poi ce ne eravamo accorti in qualche modo, non solo per i capelli, che qualche taglio dovrà poi ritrasformare completamente in... Per il tasso alcolemico. Per il tasso alcolemico, fresco fresco, come c'era il video sulla pagina Instagram del Cagliari. Però a parte le battute, ha detto abbiamo fatto qualcosa di bellissimo, ora voltiamo pagina, ce l'ha già detto il mister, perché ci serve lavorare, lavorare e lavorare. Lo ha ripetuto tre volte, ha detto che si trova bene sia da quarto che da quinto, con Ranieri, Ranieri è il mister che gli ha ridato fiducia. Ha parlato di questo rapporto particolarissimo che è nato con Pavoletti, non solo per l'assist del gol di Bari, ma in generale due, anche in questi primi giorni di ritiro, li vedi in allenamento che si cercano tantissimo, c'è un bel rapporto di amicizie, e poi in campo per noi è facile avere Pavoletti lì, per noi terzini, perché è più semplice avere quella giocata in mezzo per un giocatore d'area di rigore come lui. Vedremo. Tu gli hai fatto anche una bella domanda, quella sulla responsabilità in più di Gabriele Zappa, perché è arrivato da ragazzo di prospettiva, ora si ritrova, dopo una buona stagione, increscendo in via, a fare quel salto di qualità ad essere un giocatore non più da valutare del Cagliari, ma deve essere lui un trascinatore del Cagliari, da capire se riuscirà in questo stato. È un po' grisato nella risposta. Sì, ha driblato che sembrava l'Uvumbo sulla fascia, senza passare di parla a nessuno guardando basso. Però sì, la domanda era giusta. Va bene, hai parlato di Luvumbo, andremo un po' sui singoli di questa Cagliari-Roma primavera, 4-1, Luvumbo, Oristanio, qualcun altro secondo te, Azzi che ha segnato di testa, tanto comunque... Su assist di Lella, tra l'altro, che prima ci siamo dimenticati di dire. Lella è davvero in gran forma, insieme a Gaston Perello, di cui abbiamo parlato all'inizio, uno forse dei migliori in campo. Diciamo che le indicazioni dalla difesa, Altare ha giocato un po' con la sigaretta in bocca. Questo oggi quindi è difficile raccogliere grandi indicazioni. Travaglini secondo me ha fatto bene. Ha fatto bene, ci ha provato, ha chiuso anche con alcune diagonali importanti. Qualche errorino di posizionamento, secondo me, in uscita dal basso, però è anche giusto perché da pochi giorni con la squadra deve capire i movimenti di... Il nostro giocava a tre. Esatto, deve capire i movimenti a quattro. Stava arrivando proprio lì di Ranieri. Poi ha fatto bene Oristanio quando è entrato. È un giocatore che ha davvero tanto attacco alla profondità, che forse al Cagliari è mancato in alcuni momenti. Aveva solo Luvumbo. Per esempio l'apertura col Parma, sei riuscito a straparla perché è entrato Luvumbo. Magari avere anche Oristanio ti permette di avere più giocatori che attaccano la porta. Tu sai già che gliela dai, lui non stoppa e va all'indietro, stoppa e va in avanti. Che comunque sia per un giocatore giovane è anche un approccio molto importante. Pazzo ha fatto molto bene quando è entrato. È vero che la Roma nel secondo tempo è po' calata di ritmo con i cambi. Non è riuscita a tenere comunque sia quella qualità, almeno in fase di solidità difensiva, mostrata invece nei primi 45 minuti. però secondo me questa è una sgambata che chiaramente non può darti indicazioni per l'inizio della stagione che ricordiamo il 12 alle 21 e 15 il 12 agosto contro il Palermo il preliminare di Coppa Italia però nei singoli qualcosina è già buona. Certo è un po' sfortunato Ranieri perché ha troppi infortunati. Non c'è Youngto, non c'è la Padula, non riuscire a lavorare. Nandes Non c'è Nandes, però Nandes è uno di quelli che quando lo butti dentro puoi apprescindere dal sistema di gioco lui butta dentro garra, puoi giocare anche, non lo so, 5 contro 5 in campo e Nandes va bene ovunque, anche libero. Lo metti sta. Lo metti sta il trottolino uruguaiano però detto questo mancano dei giocatori importanti a livello di schemi offensivi. Vedremo, vedremo comunque Ranieri è un maestro nel fine aggiustare anche con pochissime sedute tattiche la sua squadra. Va bene ragazzi, noi chiudiamo questa diretta notturna quanto siamo rimasti online? Più di 22 minuti, quindi insomma dai, comunque ne abbiamo andato. Perché stanno chiudendo proprio lo stadio. Sì, poi ci chiudono, vorremmo andare a mangiare, esatto, prima di morire di ipotermia. Suleman non ha giocato per un piccolo affaticamento così come dice. Praticamente i due stanno allenando forte e hanno un pochino di blocco muscolare e ovviamente se hai un po' di contrattura comunque se hai un minimo di affaticamento non lo rischi per evitare qualcosa di peggio. Esatto, esatto. Comunque domani noi vi racconteremo quello che succederà, sicuramente ci sarà un allenamento serale, immagino. Speriamo di vedere Shomodoro in campo. Esatto, speriamo che venga ufficializzato così anche da poterlo vedere in campo e non soltanto di passaggio in macchina. Domani cucchiamo qualcun altro. Foto a manetta. Vogliamo svizzare. Foto a profusione. Quindi grazie davvero a tutti coloro che ci stanno seguendo in tutte queste prime puntate che chiaramente non solo in diretta ma anche sul nostro sito. Apro e chiudo parentesi chiediamo perdono per alcuni piccoli problemi al sito di questa sera durante la diretta non dipendevano da noi quindi esatto, problemi al server stiamo lavorando anche su. Sì, abbiamo risolto perché adesso funziona tutto quanto alla grande quindi recuperatevi in caso qualcosina. Esatto, assolutamente sì. Quindi grazie anche a Matteo Porco, Matteo Cardini, Andrea Almeo, Fabio Loi, Matteo Zisola, tutta la squadra di 131. Appuntamento a domani con le nuove dirette da Châtillon e San Vensan, quindi dal ritiro Valdostano del Cagliari di Claudio Ranieri. Robi, buonanotte. Buonanotte e sigla soprattutto. A tutti. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a DINICRI Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dimicri.com che sappia. Qu понравire noi come vi